La questione di sicurezza, 40 pattuglie in più ieri saranno destinate a Napoli, lei più che volte aveva chiesto di arrivare a questo tipo di risoluzione, speriamo che però effettivamente poi arrivino, perché lei diceva che spesso ce lo dicono e poi non mantengono i patti. E come dice lei, se così è siamo soddisfatti, se sono effettivamente 40 pattuglie nuove e non che vengano prese da una parte e messe dall'altra, perché poi non c'è solo la sparatoria alla sanità, ci sono le sparatorie a Miano, ci sono le sparatorie in altri quartieri, quindi se effettivamente ci sono 40 pattuglie vuol dire che quello che noi diciamo da tempo è stato accolto e quindi esprimiamo chiaramente soddisfazione. Aspetto però i fatti, perché sinora sul tema della sicurezza, al di là dell'enorme sforzo e dei grandi risultati che forze dell'ordine e magistratura napoletane mettono in campo, sul rafforzamento di mezzi, risorse materiali, umane ed economiche, segnali significativi non ne abbiamo avuto. Quindi se queste 40 pattuglie che lei citava e che anche io ho ascoltato sono un fatto vero e concreto, noi lo registriamo con soddisfazione.